Le aspettative sono state superate, ci attendevamo tanta gente, ce ne attendiamo ancora altra fino all'8 di gennaio. Dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere che nella settimana precedente del Natale, in cui i flussi solitamente sono stati sempre più contenuti, quest'anno è andata particolarmente bene. Bilancio più che positivo per la prima parte di Arezzo, città del Natale, che ha superato il tetto di un milione di presenze. Dal 26 dicembre ha infatti chialato il sipario su questa edizione del villaggio tirolese in Piazza Grande, mentre restano attive le altre attrazioni, dal prato al mercatino delle piazze Saiaco per risorgimento e la mostra a Lego nella Galleria d'Arte Contemporanea di San Francesco, che allunga di altre tre date, 6, 7 e 8 gennaio. Si chiude ora Piazza Grande per far posto alla fiera, rimane aperto tutto quello che è la città del Natale nella sua quasi interezza, perché dalla fortezza a Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo rimane tutto in piedi fino all'8, proseguiamo fino all'8 per poi chiudere, fare un bilancio di questa edizione che già ad oggi parrebbe positivo. La prima parte della città del Natale si è dunque chiusa con numeri importanti, come dimostrano le prenotazioni degli alberghi e ristoranti. Monitoriamo costantemente gli arrivi e le presenze, credo che i conti si fanno alla fine come al solito, ma credo che quest'anno avremo delle belle sorprese.